Salve a tutti, sono Luca Mazzei e sono un'assegnista di ricerca post-dottorato che lavora all'Università di Bologna nel Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie ed in particolare nel Laboratorio di Chimica Bio-Inorganica coordinato dal Professor Stefano Giurli. Quest'anno sono risultato il vincitore del premio Italfarmaco 2020. Questo premio è intitolato alla memoria di Gastone De Santis ed è assegnato dalla Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici della Società Chimica Italiana a giovani ricercatori under 35 che abbiano svolto una ricerca rilevante nell'ambito appunto della Chimica dei Sistemi Biologici. Quindi vorrei ringraziare il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici per aver assegnato al sottoscritto questo importante premio. Ho preparato un breve filmato in cui vorrei mostrarvi in termini generali quali sono gli ambiti della ricerca che svolgo in laboratorio e che mi hanno permesso di vincere il premio Italfarmaco di quest'anno. Questa ricerca si basa sullo studio di questo enzima di cui vedete una stampa tridimensionale. Questo enzima si chiama ureasi e come vedremo fra poco è coinvolto in tematiche sia di tipo medico farmaceutico che di tipo agroambientale. Io vi ringrazio fin da ora per l'attenzione e spero che questo video sia di vostro gradimento. La ricerca svolta nel nostro gruppo si colloca nell'ambito della chimica bioinorganica ed è destinata alla caratterizzazione molecolare di metalloproteine e metalloenzimi al fine di elucidarne le relazioni struttura-funzione e le interazioni con ligandi di varia natura che possono essere ioni metallici, inibitori, altre proteine e acidi nucleici. Questi studi partono spesso con l'utilizzo di tecniche di biologia molecolare, mediante le quali produciamo le proteine di interesse che poi sono caratterizzate utilizzando tecniche biofisiche come il dicloismo circolare, il light scattering e la microcalorimetria. Studiate dal punto di vista della struttura tridimensionale utilizzando la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare, NMR, la cristallografia di macromolecole biologiche e, nell'ultimo periodo, abbiamo anche implementato l'utilizzo della microscopia elettronica condotta a temperature criogeniche, la cryo-EM. Le proteine di interesse possono poi essere studiate anche attraverso tecniche di biologia computazionale, come la modellizzazione per omologia oppure mediante studi di dinamica molecolare. In basso potete trovare il link al sito internet di Ateneo del nostro gruppo di ricerca. In particolare la mia ricerca si incentra sulla caratterizzazione dell'enzima ureasi, un metalloenzima che contiene nickel nel suo sito attivo e che è coinvolto in problematiche sia di tipo medico-farmaceutico che di tipo agroambientale. L'ureasi è stato un enzima storicamente importante per lo sviluppo della biochimica moderna. Infatti nel 1882 il medico e batteriologo tedesco Robert Koch scoprì che il Mycobacterium tuberculosis, un batterio che produce ureasi e la sfrutta come metodo di infezione, era l'agente eziologico della tubercolosi e questa scoperta gli valse il premio Nobel per la medicina nel 1905. Nel 1926 il chimico statunitense James Sumner scoprì che gli enzimi avevano natura proteica proprio lavorando con l'enzima ureasi e riuscendo a cristallizzarla. Questa scoperta non fu subito accettata, ma gli valse il premio Nobel per la chimica nel 1946. Poi nel 1975 un gruppo di scienziati australiani dimostrò come l'ureasi contenesse ioni nickel al suo interno e che questo metallo fosse fondamentale per la sua attività catalitica. Era la prima volta che il nickel veniva identificato come un gruppo prostetico di un enzima. Infine, nel 1983, gli studiosi australiani Robin Warren e Barry Marshall dimostrarono che il batterio ureolitico Helicobacter pylori era la causa dell'ulcera gastrica, scoperta seguita nel 2005 dall'assegnazione del premio Nobel per la medicina. È logico tuttavia che l'ureasi abbia un ruolo biologico ben definito in natura. Infatti, questo enzima è coinvolto nel ciclo dell'azoto e più nel dettaglio nel processo di mineralizzazione, cioè nella trasformazione di forme organiche dell'azoto in forme inorganiche. In particolare, l'ureasi catalizza l'idrolisi enzimatica dell'urea in ammoniaca e anidride carbonica, una reazione che determina il rilascio netto di ioni OH- e quindi un aumento globale del pH del mezzo in cui questa reazione avviene. E sono proprio legate all'aumento di pH le conseguenze negative che l'ureasi ha sulle attività umane, motivo per il quale questo enzima è studiato. Infatti, è noto il ruolo che l'ureasi svolge come fattore di virulenza per l'infezione e la colonizzazione dello stomaco umano da parte del batterio Helicobacter pylori. Ma oltre a questo caso più famoso, numerosi microorganismi ureolitici sono stati indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in un documento del 2017, fra i dieci patogeni umani che presentano i più alti tassi di antibiotico resistenza e per i quali quindi la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie risulta fondamentale. Oltre all'aspetto della salute umana, l'ureasi determina problematiche anche a livello agroambientale. Infatti, i suoli coltivati sono solitamente molto ricchi di ureasi e allo stesso tempo l'urea, che è il substrato dell'ureasi, è il fertilizzante azotato più utilizzato in agricoltura. Questo crea un alto tasso di idrolisi di urea all'interfaccia aria-suolo, che determina problemi di volatilizzazione di ammoniaca, che è un gas serra, e che contribuisce alla formazione di particolato atmosferico. Inoltre, l'aumento del pH nei suoli aumenta il rischio di morte dei vegetali coltivati. È per questa ragione che il nostro gruppo di ricerca studia l'enzima ureasi, al fine di avere una caratterizzazione molecolare della sua struttura e del suo funzionamento che siano le più complete possibile, in modo da sviluppare inibitori efficienti, da poter essere utilizzati in ambito medico-farmaceutico oppure in ambito agroambientale. La determinazione degli aspetti legati alla struttura tridimensionale dell'ureasi la effettuiamo mediante l'utilizzo della cristallografia a raggi X. Nel nostro laboratorio effettuiamo la produzione e la purificazione dell'enzima, la cristallizzazione e ci affidiamo alle facility europee di luce di sincrotrone, di Hamburgo, di Grenoble e di Trieste per la raccolta dei dati, che poi processiamo nel nostro laboratorio. Per la caratterizzazione biochimica e funzionale utilizziamo invece la calorimetria, la quale misurando il calore intrinseco della reazione in esame ci permette di derivare i parametri cinetici della reazione di idrolisi o dell'inibizione dell'ureasi da parte di specifiche molecole. Utilizziamo anche tecniche di spettrofotometria UV visibile, oppure utilizziamo il pH-stat, che è una tecnica analitica basata sulla titolazione dell'ammoniaca prodotta dalla reazione di idrolisi dell'urea da parte dell'ureasi tramite l'utilizzo di un acido forte. In questa immagine vedete un modello tridimensionale che rappresenta la struttura dell'ureasi, in particolare di un'ureasi batterica, ma la struttura è conservata nell'ureasi di tutti gli organismi fino ad oggi studiate. I dettagli del sito attivo sono raffigurati invece nell'immagine a destra. Questo è costituito da vari residui amminoacidici che legano due ioni nickel, i quali sono diretti responsabili dell'interazione con l'urea e la conseguente idrolisi della molecola durante la reazione enzimatica. Un ruolo fondamentale, come vedremo tra poco, è rivestito dall'ione idrossido, che si trova legato tra i due ioni metallici e che è indicato come OH nell'immagine. Il meccanismo di reazione che vedete qui raffigurato si articola in alcuni step fondamentali che sono stati per molti anni oggetto di dibattito scientifico, proprio perché è sulla caratterizzazione a livello molecolare del funzionamento di un enzima che si può basare una strategia per la sua inibizione. E proprio questi aspetti sono stati al centro del nostro studio. In particolare, ho contribuito a dimostrare che l'urea, in seguito all'entrata nel sito attivo e al legame ad uno dei due ioni nickel tramite il suo ossigeno carbonilico, affinché possa essere idrolizzata, deve legarsi anche all'altro ione nickel. In aggiunta, abbiamo compreso che una regione mobile della proteina, localizzata al di sopra del sito attivo e chiamata FLAP, si chiude sul sito attivo stesso, avvicinandosi alla molecola di urea tramite un residuo di istidina e favorendo in questo modo la reazione enzimatica, che inizia con l'attacco nucleofilo da parte dell'idrossido legato a ponte tra i due ioni nickel sul carbonio della molecola di urea. A questo punto, proprio il residuo di istidina appartenente al FLAP è coinvolto nella stabilizzazione delle specie intermedie e nella formazione dei prodotti, i quali sono poi rilasciati al di fuori del sito enzimatico in seguito alla riapertura del FLAP. In questo breve filmato, creato con la tecnica del morphing, vi mostro come avviene, in seguito all'entrata dell'urea nel sito attivo, la chiusura del FLAP che favorisce l'inizio della reazione e permette poi ai prodotti la fuoriuscita dal sito attivo in seguito alla sua riapertura. Per chiunque fra voi che state guardando questo video fosse interessato, vi invito a leggere questa review pubblicata quest'anno sul Journal of Biological Inorganic Chemistry, in cui sono riportati tutti i dettagli degli studi a cui vi ho accennato. Vi ricordo inoltre che sul nostro sito trovate anche tutte le pubblicazioni del gruppo di ricerca, comprese ovviamente quelle inerenti agli studi sull'ureasi. Lo studio sul meccanismo di reazione ci ha permesso quindi di capire che le strategie per inibire l'ureasi, al fine di modularne l'attività e di ridurre le conseguenze negative che questo enzima ha sulle attività umane sono almeno due. Possiamo studiare molecole che si leghino all'interno del sito attivo interagendo con gli ioni nickel e impedendo all'urea di posizionarsi nel modo corretto per subire l'idrolisi. Ma possiamo anche sviluppare dei composti che blocchino l'attività del FLAP in modo da impedirne la chiusura, cosicché non entri a far parte del meccanismo catalitico bloccando di fatto la catalisi enzimatica. Da questo punto di vista abbiamo caratterizzato alcune molecole, in particolare metal-based drugs a base di oro o molecole con scaffold catecolici, che sono in grado di svolgere questa funzione. E perché no, un ulteriore step potrebbe essere quello di sviluppare dei composti che riescano ad interagire sia con il sito attivo dell'enzima che con il FLAP, in modo da aumentare la forza dell'inibizione e la specificità nei confronti dell'ureasi. Sono molto orgoglioso di aver ricevuto dalla divisione di chimica dei sistemi biologici il premio Italfarmaco 2020. Vorrei condividere moralmente questo premio con tutti gli appartenenti al mio gruppo di ricerca, perché senza il loro supporto non sarei stato in grado di ottenere questi risultati scientifici che hanno fatto sì che io potessi vincere questo premio. Ringrazio anche tutti gli studenti presenti e passati che sono stati coinvolti in questa ricerca e anche tutti i collaboratori, sia interni che esterni all'Università di Bologna, perché con il loro impegno e con il loro lavoro ci hanno permesso di produrre queste importanti evidenze scientifiche. Ringrazio infine tutti voi per aver seguito questo video. Mi auguro di incontrarvi al prossimo congresso nazionale della Società Chimica Italiana che si terrà a Milano nel 2021.